Roberto Fannaci! Buongiorno Milano! Buongiorno Milano! E' il mio secondo comizio, il primo l'ho fatto ad Arezzo due giorni fa. Ma qua è incredibile, siete tantissimi! E' come avere davanti a sé una legione! La decima legione! E allora vi racconto il perché sono qua, perché ci sono tantissime ragioni per cambiare questa Europa. Ma io ve ne racconterò solo una! La decima ragione! E si chiama Elena e Michela e sono le mie figlie. E io vorrei dare a loro un'Italia migliore e un'Europa migliore. Perché questa Europa non ci piace! Grazie! Grazie!